ciao ciao a tutti e bentornati sul mio sbrillucicoso canale campionatura di perline film in co quella che vedete qui davanti è una delle due campionature che sono state presentate ieri durante la diretta le protagoniste di questa diretta sono state quattro tipologie di perline matubo in una finitura nuovissima la matte velvet che perline film in co ha proposto in anteprima assoluta per l'italia quindi veramente una cosa favolosa poterle avere già fra le mani io infatti la mia campionatura ho scelto una delle due che adesso vi spiegherò appunto sono state effettuate due campionature perché praticamente le colorazioni sono dieci le tipologie di perline sono quattro quindi per non fare una campionatura troppo costosa ha deciso di dividere in due in modo che uno sceglie la campionatura che più le piace in base ai colori oppure se le piacciono tutti quanti decide di prendere tutte e due io ho scelto quella dove c'erano i colori che più mi piacevano anche se era bellissima anche l'altra in ogni caso intanto ho voluto provare questi colori le perline in questione sono le super duo le gem duo le paisley e le ginkgo ora vi mostro in dettaglio tutte le colorazioni di queste perline in questa campionatura che adesso non so se la 1 la 2 la mia comunque appena saranno pubblicate le inserzioni relative le campionature vi metterò in ogni caso il link sia di questa che dell'altra così la potrete vedere anche dalle fotografie ora apro tutto quanto vi mostro come ho fatto la volta scorso ho deciso di sistemare le mie perline insieme a voi in modo che così fuori dalla bustina riuscite sicuramente a vedere meglio anche il colore e io nel frattempo sistemo le mie perline allora inizierei da questo colore io adesso perdonatemi i colori sono nuovi non me le ricordo la finitura vi ricordo che è la matte velvet ma le colorazioni specifiche le troverete come di consueto sia nelle inserzioni sul sito che anche sulle vostre bustine quando vi arriveranno a casa io come al solito la mia l'ho presa subito per evitare di rimanere senza e visto che ero la me la sono presa subito su con me come faccio sempre e allora inizio da questo colore che è un e sul grigio un grigio matt che adesso vi faccio vedere meglio appunto sistemo insieme a voi eccoli qua in questo caso di sistemi in questi contenitori ok così mano a mano potete vedere meglio anche il colore eccole qua queste sono le super duo poi abbiamo le cinque guardate che mettiamo nel secondo scomparto ops cosa sapevo io l'abbiamo presa subito bene queste qua guardate che bello questo colore alle confessioni dimenticato di dirvi sono tutte quante da cinque grammi cinque grammi quindi ogni campionatura ha cinque grammi per quattro colori per scusate per quattro tipologie di perline per cinque colori veramente è una cosa fantastica secondo me allora adesso mano a mano vi mostro sono rimaste 25 quando le ho messe tutte così ho finito questo video già belle che sistemato le mie perline l'altra volta vi è piaciuto tantissimo con i bicono della preziosa e quindi ho deciso di fare anche stavolta nello stesso modo quando riesco è un piacere allora poi abbiamo le gem duo bellissime tutto perfetto le gem duo e le pesi guardate favolose veramente si 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 ci stanno anche loro guardate qua tutte e quattro le tipologie di perline in questa finitura matt velvet sul grigio bellissimo allora io le metto mano a mano qua e passo a un altro colore allora super duro in questo bel color verde un verde bello vivace bellissimo sistemiamo anche loro ok riuscivo ad aprire la bustina eccole qua anche questo guardate quanto è bello andiamo in fila come nelle altre così me le ritrovo tutte uguali abbiamo le zinco meraviglioso veramente abbiamo le gem duo spettacolo infine le pesi sono riuscita mettere una pesi fuori posto sistemata guardate anche in questo caso meraviglioso vederle tutte quattro insieme bello bello questo colore è molto realistico proprio così come lo vedete direi bene procediamo con con questo meraviglioso o arancione adesso non ricordo se era quello denominato carrot perché ce ne sono due tipologie di arancione l'altro lo troviamo appunto nell'altra campionatura adesso non ricordo se era appunto questo che a me ricorda molto il colore della zucca c'è stato anche qualcun altro in diretta che lo ha pensato allora sistemiamo anche questo bel colore eccole super duro guardate ricordano proprio la zucca oggi inco eccole qua leggendo bello belle 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 veramente e poi infine anche in questo caso abbiamo le tesi più bello avere proprio tutte le perline nella stessa tonalità ed eccole tutte e quattro anche quelle di questa colorazione guardate che spettacolo guardate che spettacolo allora preparo la scatolina quarto colore super duro guardate che meraviglia questo bel tono di viola bellissimo adesso ve lo faccio vedere meglio scappate super duro guardate che spettacolo vediamo le cinque ovviamente poi abbiamo le cinque ovviamente poi abbiamo le cinque ovviamente un po' che faccio prima eccole qua sono una favola vero belle 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 gem duo questo tra l'altro era tra i miei colori preferiti infatti ho scelto la campionatura da prendere l'ho scelta in base a dove c'erano i miei colori preferiti anche se come ripeto erano veramente tutti belli perché questa finitura li rende veramente tutti belli allora queste sono le gem duo appunto guardate e poi le pesli eccole qua spettacolo vederle tutte insieme veramente ecco qua e infine l'ultimo colore di questa campionatura il mio preferito in assoluto l'ho proprio dichiarato anche durante la diretta perché veramente appena l'ho visto sono rimasta veramente senza parole ed è questo non ricordo anche di questo il nome perdonatemi ma come vi dicevo troverete sul sito tutte le denominazioni dei colori anche sulla vostra bustina ci sarà l'etichetta bello 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 adesso vediamo anche questo senza la bustina e vedrete che spettacolo eccola qua guardate che cos'è questo colore favoloso le ginkgo mi piace veramente troppo come qualcuno ha suggerito in diretta color denim tipo siamo divertite un po' anche a dare i nomi in base a quello che ci ricordavano come appunto la zucca allora abbiamo le pesli appunto adesso qua sono rimasso subito in tutta la loro bellezza eccole e guardate anche queste quanto sono belle tutte quante insieme bene io veramente guardate che belle guardate che spettacolo si riesce un po' a intravedere tutto tutte le colorazioni bellissime veramente e io vi rimando comunque alla visione della diretta se non l'avete vista così potrete vedere anche dal video l'altra l'altra campionatura in ogni caso vedrete l'inserzione con le relative fotografie io vi ringrazio per aver visionato questo video spero di esservi utile come ogni volta per i vostri acquisti in questo caso vi ricordo che come sempre le campionature sono a tiratura limitata proprio perché ce ne sono un tot disponibili e quindi se vi interessano vi consiglio di dare un'occhiata velocemente perché potrebbero esaurirsi presto grazie ancora ci vediamo alla prossima ciao